crutch bind set benvenuti cari amici del canale dampa rugby jingle bell jingle bell non è natale sì che natale siamo alla vigilia sta per iniziare il sei nazioni signori viene ogni anno e come una festa noi lo accogliamo così come il natale no e allora ho voluto farvi un regalo un regalo anticipato ho voluto fare una guida una preview squadra per squadra per analizzare tutte le partecipanti al torneo analizzarle sotto il punto di vista della quota quindi la loro posizione sulla griglia di partenza chi parte in pole position e chi invece dalle ultime file i tre fattori chiavi che potrebbero in qualche maniera influenzare l'andamento del torneo per ogni singola squadra il percorso il possibile percorso quindi il calendario di ogni singola squadra gli osservati speciali ci sono un sacco di novità in questo torneo e allora andiamo a vedere chi saranno i giocatori chiave o le sorprese di ogni singola squadra e poi mi lancio alla piscina come si dice qua in spagna me tiro alla piscina me mojo ossia vi darò il mio pronostico farò un gioco perché ovviamente i pronostici io non sono non ho la lampada di aladino non so chi vincerà ma mi butto mi butto e faccio un ranking per giocare ripeto perché i pronostici veri quelli si danno in percentuali e allora iniziamo iniziamo con la prima squadra ma prima di iniziare con la prima squadra fatemi salutare e soprattutto ricordare che tramite i partner del canale deregbicatalog.com e enervit.com avete due grandi opportunità su deregbicatalog tutto quello che potete trovare di materiale regbistico compresi i palloni come quelli che vedete lì dietro le maglie del benetton e anche il pallone ufficiale della nazionale italiana tutti con il 10 per cento di sconto con il codice sconto dampat 10 così come su enervit.com avete invece il 25 per cento di sconto come scritto sotto in descrizione con il codice sconto dampat quindi approfittatene perché ragazzi sono veramente due belle occasioni e un'altra maniera per sostenere il canale a proposito dopo che lo avete fatto se volete mandatemi un messaggio che io vi metto nel gruppo la mall di dampat rugby un gruppo telegram dove ogni giorno discutiamo di rugby in maniera molto appassionata ma andiamo al sodo e allora iniziamo iniziamo con la francia andiamo dalla prima favorita fino a quella che invece viene considerata ultima nello schieramento di partenza ma vediamo non è detto che i miei pronostici coincidano la francia oggi la francia è la favorita a vincere il torneo nonostante nel world ranking sia adesso la numero 4 l'irlanda la numero 2 dopo essere stata l'irlanda per molto tempo numero 1 oggi lo sono ovviamente i campioni del mondo del sud africa i numeri 1 del mondo il 15 di galtier ragazzi si gioca 2.1 che cosa significa significa che gli viene dato il 47.6 per cento di possibilità di vincere il torneo ovviamente le quote sono indicative poi ogni ogni operatore ci avrà le sue quindi francia prima favorita i fattori chiave quali sono i tre fattori chiave ne ho scelti tre per ogni singola squadra numero uno la capacità che avranno di sostituire il miglior giocatore del mondo antoine dupont due come reagiranno alla botta psicologica della sconfitta mondiale e alla fatica di un torneo molto impegnativo come il top 14 3 gli aggiustamenti e i cambiamenti del nuovo ciclo che francia vedremo e allora parliamone parliamo del punto numero 1 la capacità di sostituire dupont mi venire dupont sì perché chi lo sostituirà dupont partirà maxime lucu che a livello internazionale ha un po vissuto sempre all'ombra no del ministro dell'anteriore bene maxime lucu ha la sua chance anche perché poi dietro a lui arriveranno giocatori giovani nuovi talenti come appunto lega rec che parte dalla panchina nella prima o magari battigeno mediano di mischia dell'under 20 che si è lavorata campione del mondo l'anno scorso maxime lucu può sostituire dupont lo può fare lo può fare anche perché sta facendo una stagione onestamente pattesca a bordeaux è un leader è stato anche vice capitano in alcune occasioni anche partendo dalla panchina certo non ci dobbiamo un po il discorso che avevamo fatto quando dupont si era infortunato al mondiale non ci dobbiamo aspettare un dupont 2 maxime lucu ha un gioco diverso da dupont ma vera fianco a lui jalibert suo compagno di squadra nel club e non tamac che invece è la coppia ideale per fare una grandissima sinergia proprio con dupont bene avere la coppia di mediana dell'ubb potrebbe aiutare parecchio punto 2 secondo fattore chiave come reagiranno alla botta psicologica del mondiale non è la botta non è una botta è la botta tutto era disegnato per quell'evento la francia lo preparava da sei anni probabilmente lo preparava dal giorno in cui sono state designate come paese ospitante del campionato del mondo psicologicamente loro e l'irlanda hanno questo fantasma enorme che devono riuscire a superare questo scheletro che si devono togliere dall'armadio e forse chi vincerà la prima partita questo fantasma in qualche maniera se lo scrollerà almeno in parte perché poi probabilmente sarà qualcosa che si porteranno avanti per anni se non per decenni mentre chilo chi perderà la prima partita bene allora appariranno tutti i dubbi le incertezze le paure per tutto il torneo quindi prima partita di venerdì importantissima la francia quella partita il vantaggio di giocarlo in casa e attenzione non a parigi importante perché parigi è un po una piazza particolare si una passione clamorosa quando gioca il cannes de france ma anche durante il mondiale si è detto che parigi era un po più distante rispetto ad altre città e allora la francia questo torneo lo va a fare itinerante sempre in casa il che potrebbe aiutare la francia in quella partita di venerdì ma è anche una pressione aggiuntiva soprattutto per una squadra che aveva puntato così tanto su questo mondiale come gestiranno questa pressione bene lo sapremo venerdì che francia vedremo più o meno la stessa francia french flair alla galtier no una francia che io avevo definito quasi gegen presco lo piano una francia che gioca di rimessa una francia che gioca sul talento individuale delle loro stelle galtier ha parlato di qualche aggiustamento vedremo vedremo che cosa ci riserverà lo staff tecnico di galtier che attenzione è cambiato in alcuni dei protagonisti il percorso bene la francia giocherà con l'irlanda in casa a marsiglia la prima una specie di finale anticipata poi la scozia a marefield italia a lil galles al millennium e poi si chiude con le crunch attenzione l'abbiamo detto non a parigi e dove al parco olympique di lione quali sono i giocatori che io osserverò con maggior attenzione durante il torneo e che vi consiglio di osservare con maggior attenzione durante il torneo allora innanzitutto peato movaca peato movaca pazzesco il suo mondiale pazzesco il suo mondiale si candida seriamente a essere il miglior tallonatore del mondo ha superato in club e in nazionale julian marchand e occhio che ha superato uno che forse era il miglior tallonatore del mondo diciamo che loro due se la giocano con shian dell'irlanda ma e e sono nello stesso club e nella stessa nazionale insomma interessante vedere tra l'altro se continuerà a progredire se la crescita massima è già stata raggiunta comunque intanto partirà titolare e io lo guarderò con grande attenzione poi l'unico vero nuovo nome nuovo del 15 titolare della prima partita in seconda paul gabriag torna torna a 30 anni nazionale da cui era uscito dopo la coppa del mondo 2019 in attesa dell'esordio di mea fu che sarebbe che sarà un altro giocatore da guardare con grande attenzione e infine quella che potrebbe essere la sorpresa relativa nella francia ossia bielbiarri ok non è una sorpresa ha già giocato il mondiale ha fatto quattro metà al mondiale ma sto ragazzo l'anno scorso avrebbe dovuto partecipare al mondiale under 20 e invece ha spinto fuori squadra un certo gabin villier che adesso non è entrato nemmeno nel gruppo allargato se invece vogliamo parlare di veri nomi nuovi allora occhio a nicolà de porter anche lui viene da quella splendida under 20 uno dei miglior line breaker del top 14 e quindi questa la francia manca il pronostico vado seconda io dico che la francia arriverà seconda e voi scrivetelo nei commenti irlanda l'irlanda allora partiamo dalla posizione sulla griglia di partenza l'irlanda è la seconda favorita si gioca 2.7 2.7 che rappresenta il 37 per cento di possibilità di vincere il torneo i fattori chiave che ho individuato uno è quello di cui tutti parlano la capacità di sostituire johnny sexton due anche loro sembra la fotocopia della francia la francia come sostituire a dupont questi come sostituiscono sexton la francia come reagisce alla botta questi come reagiscono alla botta e adesso ne parliamo perché anche loro ne hanno avuta una bella e poi la capacità di ritrovare la gioia di giocare in un sistema particolare un sistema molto partecipativo ma anche molto chiuso adesso ne parliamo allora il primo punto l'abbiamo detto sostituire sexton ok impossibile anche perché se la francia deve sostituire dupont per un torneo l'irlanda invece deve fare il cambio della guardia ossia deve trovare le rede di sexton e onestamente tutti i nomi possibili compresi anche gli infortunati non ce n'è uno che convinca pienamente e dio solo lo sa anzi andy farrell quanto è centrale l'apertura il numero 10 nel gioco dell'irlanda tra l'altro il problema di un'apertura alternativa a sexton è un problema eterno cioè gli irlandesi se ne erano accorti anche prima e difatti hanno provato negli anni ha provato paddy jackson ian madigan joe carberry billy burns appunto i fratelli burn jack herty ma fondamentalmente nessuno si è nemmeno lontanamente avvicinato al rendimento di colui che fare l'abbiamo visto su netflix ha definito il miglior giocatore irlandese di sempre alla faccia di ronanoga ora si riparte si riparte da chi si riparte dall'ennesimo esperimento da crowley che è alla sua quarta titolarità e in panchina ci sarà frowley sembra uno scioglilingua al suo solo al suo secondo cap magari attendendo che l'uomo di cui tutti parlano ma che sembra ancora un po fragilino ossia quel sam prender gast 19 anni si aggiunga alla lista due abbiamo detto come sapranno resistere alla botta e anche qui i paralleli con la francia sono incredibili mentre la francia aveva il peso del mondiale in casa l'irlanda aveva vari pesi uno la maledizione dei quarti di finale che non è stata sfatata l'ultima di sexton ossia un po come l'argentina di messi volevano regalare la poterosi di una carriera incredibile a johnny sexton e non ci sono riusciti e in più arrivavano da numero uno del mondo inutile che vi dica come finita no riusciranno a riprendersi da da una botta tanto forte altra domanda apertissima 3 il gioco il gioco dell'irlanda è un gioco molto ma molto partecipativo dove la palla la toccano in tanti e la toccano spesso ma che in un certo modo non permette troppo agli individui di uscire dallo spartito no raccontare raccontava per esempio in un video uno youtuber francese di come per esempio gli irlandesi lavorino spessissimo allenandosi al passo calcolando proprio ogni singolo passo e ogni singolo momento e movimento delle mani per andare ad ottenere quel disegno finale che poi vediamo bene questo fino a che c'è fede e un capitano come sexton è stato sposato dai giocatori con l'idea vinciamo la coppa del mondo ma sappiamo come le sconfitte mettono alla prova anche la fede più cieca e allora domanda quanto saranno disposti a giocare i giocatori irlandesi quasi guidati dal joystick poi attenzione non è che sia sempre così però è un gioco che prevede tanti movimenti collettivi quanto saranno disposti a restare sul piano di gioco quante libertà corrette o non corrette si vorranno prendere altri punti di domanda il percorso il percorso allora hanno la francia in trasferta poi vanno andiamo noi andiamo noi alla viva dopo noi italia ovviamente dopo la pausa hanno il galles in casa il 9 marzo vanno a twickenham e poi si chiude in casa con la scozia in una partita che attenzione potrebbe essere decisiva potrebbe essere importante osservati speciali allora delle aperture ne abbiamo parlato quindi guarderemo Crowley e Crowley con grande attenzione poi Calvin Nash Calvin Nash prima da titolare nell'apparente appunto finale anticipata con la Francia seconda presenza per lui in verde con la benedizione di Simon Zibo che ha detto che è molto molto forte lo conosciamo ma ha la sua possibilità di aprire un ciclo mondiale magari approfittando anche della temporanea assenza di Mackenzie infine Joe McCarthy prima titolarità seria per lui dopo la partita con la Romania un mezzo allenamento 22 anni in campo negli ultimi 20 minuti nell'incubo il blacks del quarto di finale inizia il suo cammino verso il prossimo mondiale magari da protagonista pronostico per me arrivano e allora direte ma come la Francia seconda questi terzi chi arriva primo ci arriviamo ci arriviamo Inghilterra allora andando avanti dalla più favorita alla meno indovinate chi è la meno favorita troviamo l'Inghilterra che si gioca 7.5 che rappresenta un 13.3 di vincere il championship tre fattori chiave l'evoluzione del percorso di Stephen Boltwick la questione Farrell e la centralità di Ford e poi il terzo punto per me è il grande fighting spirit lo spirito di combattimento che ha l'Inghilterra ma ogni tanto pecca di creatività e vediamo cosa può significare evoluzione del gioco di Boltwick allora l'ho spiegato benissimo Riccio Marco Riccioni ieri da 8 l'Inghilterra nel dopo Eddie Jones ha dovuto fare le cose in fretta concentrandosi sui basics ma il progetto è più ad ampio respiro e Boltwick non ha vinto il titolo con i Tigers solamente calciando la palla in aria e facendo la remaria e quindi è probabile che vedremo sviluppi nel gioco offensivo dell'Inghilterra e questo 6 nazioni è il momento perfetto per sperimentare oltre a uno sviluppo di cose che già funzionano abbastanza come insomma la rimessa, la mischia, la difesa beh insomma il progetto Boltwick in costruzione due, tutto il caso Farrell allora Farrell ha rinunciato alla nazionale si è detto stufo di essere aggredito nei social media poi è andato a firmare col Racing qualcuno ha speculato che le due cose fossero legate pensate quello che volete ma insomma morto il re, viva il re e io dal primo giorno quando a 10 non c'era nemmeno Farrell ma c'era indiscusso con Eddie Jones in un certo momento Marco Smith e Farrell invece come opzione a centro disse occhio al ritorno di George Ford con Boltwick pupillo e splendido interprete delle idee dell'ex allenatore dei Tigers oggi le contingenze appunto Marco Smith infortunato portano a scommettere sull'ex compagno di classe di Owen sapete che erano a scuola CMST2 sarà il quadriennio di Ford qualcuno starà pensando di Ford ma questo è vecchio ma che cosa ci stai dicendo? no, a 30 anni a 30 anni George Ford arriverebbe perfetto per il prossimo mondiale tre all'Inghilterra quello che non si toglie è il fighting spirit no? è l'isganza in testa ma è proprio nel DNA del modo di interpretare il gioco inglese con degli atleti che nascono magari tranne Genja anche questo l'abbiamo visto su Netflix nascono magari nelle scuole private di alto livello della società inglese ma poi in campo si trasformano e diventano delle bestie sanguinare anche al limite della scorrettezza qualche volta ma si lotta loro sono inglesi e vogliono imporre il dominio ecco quello che ogni tanto manca mettendo così tanto nella lotta è la fantasia il talento quello proprio puro 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 ed è proprio quello per quello che proprio nella cultura dello sport inglese quando arriva chi porta questo surplus di imprevedibilità viene amato alla follia e mi vengono in mente esempi prima di tu calcistici mi viene in mente George Best per qualche verso anche David Beckham ma anche il buon Cipriani o per certi versi Wilco Johnny Wilkinson che era un giocatore completissimo e non aveva solo quell'aspetto creativo ma aveva anche quello oggi tutto questo è forse rappresentato da Marcus Smith Marcus Smith che si apre che all'inizio sarà infortunato per le prime partite e poi si apre il grande il grande quesito verrà lasciato sbocciare da un Borthwick abbastanza conservatore come idee l'abbiamo visto come l'ha usato al mondiale a volte l'ha messo a fare a fare il pungible per gli avversari a farlo sacrificare a 15 ma Marcus Smith è un 10 e lui deve creare come verrà utilizzato Marcus Smith e negli altri ruoli poi perché ce lo dimentichiamo spesso che tasso di creatività può portare l'Inghilterra punto di domanda il percorso allora si inizia a Roma si inizia a Roma poi si riceve il Galles per un inizio sulla carta sulla carta molto soft Italia Galles l'ultima e la penultima favorita nel turno tra le due pause si va a Marrefield per una Calcutta Cup che ormai è diventato un incubo per gli inglesi la perdono da tre anni di fila e poi in casa con l'Irlanda e si finisce con Le Crunch con la Francia in Francia chi guarderemo chi sono gli osservati speciali dell'Inghilterra allora abbiamo parlato di Marcus Smith ma occhio a Finn Smith Finn Smith abbiamo parlato di Ford come centrale in questo ciclo mondiale ma il New Kid on the block è Finn Smith proprio di recente ho passato qualche ora con Giacobo Umaga e mi ha parlato di lui come un gran giocatore sta facendo benissimo con Northampton molto molto preciso al piede ordinato capace di attaccare la linea a testa alta senza perdersi nell'ansia del line break soprannominato Mr. Reelable potrebbe essere un profilo perfetto su cui scommettere per Bortwick Mr. Affidabilità poi occhio a Grazer Dingwall nel momento in cui sto facendo il video non è ancora uscita la formazione dell'Inghilterra quindi non so se partirà subito ma è un altro uncapped sono sette in tutto nello squad ex capitano dell'Under 20 centro dall'alto IQ regbistico altro profilo che secondo me piace parecchio al coach e poi Pio Dan questo ok non è nuovo ma comunque ha solo 23 anni ancora giovanissimo protagonista assoluto della finale per il titolo del del campionato inglese l'anno scorso parte dietro al neo capitano Jamie George e quindi potrebbe quasi sempre partire da impact player però che impact che impact è uno di quei giocatori che ti cambiano la partita pronostico nonostante i singoli interessanti e li abbiamo appena nominati io per questo sei nazioni l'Inghilterra e so che sbaglierò ma la metto quinta 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 la metto sì avete capito bene quinta e allora chi lo vincerà per me sto sei nazioni una delle tre che mancano difficile che io dica o l'Italia o il Galles e allora parliamo della Scozia la Scozia potrebbe essere la vera value bet del torneo si gioca a bocce ferme attorno al 13 il 7% i fattori chiave la continuità di Townsend la serenità di aver fatto il proprio dovere bene o male al mondiale e il fattore Finn Russell allora Townsend è alla guida della Scozia ormai da maggio 2017 quindi siamo al suo settimo anno entriamo nell'ottavo ed è appena è stato rinnovato fino al 2026 attenzione interessante al 2026 non fino al mondiale detto questo per Townsend è probabilmente o ora o mai più sono arrivati a essere quinti al mondo con Townsend tanta tantissima roba per la Scozia hanno purgato l'Inghilterra tre volte di fila hanno giocato un bel rugby un rugby veloce adrenalinico ma c'è un grande ma non hanno vinto il Six Nations e non hanno passato il turno al mondiale in un gruppo si è vero impossibile quest'anno ma nel 2019 eliminati dal Giappone se ricordate quindi quindi è ora di andare all in è ora di mettere tutte le chips nel piatto e il secondo punto che ho scritto sembra un po' in contraddizione col primo ossia la serenità di aver fatto il proprio dovere al mondiale ma questa volta era onestamente impossibile far meglio non hanno preso imbarcate con Irlanda e Springboks anche se non hanno mai dato la vera sensazione di poter vincere quelle partite e hanno passeggiato letteralmente con Tonga e Romania non hanno scheletri da portarsi dietro in questo torneo al contrario appunto di Francia e Irlanda e poi il terzo punto il fattore fin anche qui quando faccio il video non ho ancora visto la formazione della prima della Scozia e quindi non so se Finn Russell partirà da capitano ma basta guardare i numeri dei palloni toccati per rendersi conto di quanto centrale sia Finn Russell per il gioco scozzese tutto passa dalle sue mani e dalla sua testa l'all in di Thousand passerà per Finn Russell Netflix ci ha raccontato di un rapporto conflittivo che hanno avuto i due tra l'altro quando giocava a Thousand era abbastanza simile a Russell quindi insomma un odio amore particolare su cui ci si potrebbe fare solo su questo un libro che però è sfociato oggi come oggi in un riavvicinamento e a volte come una coppia quando litiga poi quando riesce a riavvicinarsi diventa più solida e allora adesso c'è la fiducia cieca la fiducia cieca di Thousand verso Finn Russell e allora ecco la scelta di nominarlo co-capitano adesso però tocca a Finn ripagare questa fiducia Finn avrà quasi carta bianca adesso tocca a lui a dimostrare qualcosa il percorso allora il percorso inizia col Galles poi la Francia a Murrayfield la Calcutta Cup in casa la Cutitta Cup a Roma contro l'Italia infine Irlanda alla viva in quello che se fosse in quello che se fosse una finale si potrebbe trasformare in un esodo di gente col kilt dalla Scozia verso Dublino gli osservati speciali ok non è un nuovo nome ma non possiamo nominare Finn non nominare Finn è talmente centrale Russell nella Scozia che non possiamo non nominarlo Finn è sempre sotto i riflettori e tutti vogliamo vedere le sue magie poi nomino Rory Darg co-capitano con Finn Russell si era detto quasi sorpreso della scelta però questo significa due cose assunzione di responsabilità e l'altra cosa titolarità la set sulla schiena da titolare indiscusso a 23 anni anche visto il declino anche inaspettato imprevedibile di un giocatore pazzesco solo fino all'altro ieri come Amy Schwartz il terzo nome è Aaron Reid la Scozia non è mai stata timida nel prendere giocatori cresciuti da altre parti e occhio Alexander Venti inglese ha la veloce elettrica che potrebbe essere un'arma in più in un back 3 già di suo velocissimo pronostico avete capito and the winner is Scozia per me la Scozia vince questo 6 nazioni lo so sono pazzo è una sparata a fine video ve ne farò altre di sparate ve ne farò 6 Galles ci avviciniamo ci avviciniamo fra poco tocca a noi Galles allora tre fattori chiave the red wall le quote vabbè queste ultime due vengono date abbastanza sfavorite abbastanza sfavorite ho perso la cosa mi sono reso conto adesso il Galles il Galles viene dato a 26 il Galles viene dato a 26 insomma quindi meno del 10% meno del 5% tre fattori chiave allora uno the red wall il muro rosso che abbiamo conosciuto al mondiale l'altro fattore chiave è che il Galles sta perdendo molte certezze e bisogna capire come riuscirà a ovviare a questo problema e il terzo è la stabilità della union gallese fino adesso ho parlato solo di argomenti di campo però nel Galles potrebbe anche esserci qualcosa di fuori campo che influisce nel percorso di questi ragazzi allora the red wall l'hanno chiamato così al mondiale il muro difensivo che costruiva il Galles che ci aveva fatto strabuzzare gli occhi al mondiale se c'è una squadra a cui associare la parola resilienza ossia la capacità di modellarsi nelle difficoltà bene questo è il Galles e non ci dimentichiamo che quella che oggi sembra l'armata Brancaleone ha vinto due degli ultimi cinque campionati eh le certezze che stanno venendo una a una a mancare certezze con i nomi di Alunwin Jones Justin Tipurich Alf Penny Biggar Louis Rizamit e perfino il neo capitano Jack Morgan che tanto ci era piaciuto al mondiale sono tutti nomi che non ci sono più eh qualcuno ovviamente tornerà eh Jack Morgan sicuramente forse addirittura anche in questo mondiale eh ma soprattutto tutti per una ragione o per l'altra punti di riferimento la partenza di Louis Rizamit per andare a giocare nell'NFL annunciata poche ore dalla convocazione e ti fa capire quale confusione regni nel nel mondo gallese da chi si riparte? Si riparte da Jenkins capitano a 21 anni ha detto pensavo quando mi è arrivata la chiamata che fosse uno scherzo gli scherzi telefonici che si facevano una volta Gatland che dice aspetta che chiamo Jenkins li faccio uno scherzo e insomma quindi Jenkins ha 21 anni che verrà coadjuvato dall'esperienza di Josh Adams di George North e di Will Rollins basterà? Lo scopriremo solo vivendo e infine la stabilità della Union abbiamo detto l'anno scorso quasi scioperano quasi rinunciano a giocare le franchigie sono in un momento difficilissimo i problemi sono ben lontani dall'essere superati il torneo è lungo riusciranno per l'ennesima volta a compattarsi contro tutto e tutti riuscirà Warren Gatland a fare l'ennesimo miracolo gallese punto di domanda percorso allora tutto in salita quello del Galles ma veramente in salita perché ah no vabbè la partita finale con l'Italia che potrebbe essere decisiva per il cucchiaione ma prima si inizia con la Scozia in casa quindi quella che io ho messo vincente del torneo poi va a Twickenham quindi Inghilterra a Twickenham sempre una partita difficilissima dopo il riposo va alla Viva poi alla Francia in casa e poi l'Italia all'ultima mei coglioni osservati speciali sicuramente il neo capitano Jenkins David Jenkins 21 anni non fu titolare nemmeno nel quarto con l'Argentina ma oggi nella partita immediatamente successiva è il capitano e la scommessa di Gatland poi Sam Costello allora se in Irlanda hanno il problema del post Sexton qui c'è questo cioè quello del post Biggar la scommessa va su Costello giocatore degli Scarletts molto diverso da Biggar tra l'altro lo davano anche con qualche problema muscolare però è nella prima formazione partirà lui al timone di una nave che rischia veramente di fare tanta acqua e infine Cam Winnett debutante 21 anni subito titolare alla prima delle 6 nazioni estremo completo con buoni doti di playmaking solido al contatto nonostante la stazza non enorme attento comunque sulle palle alte insomma da scoprire ma soprattutto da verificare sul livello pronostico stavo guardando se ce n'avevo qua uno no cucchiaione 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 pronostico cucchiaione l'Italia allora l'Italia si giocava a 500 a 1 a inizio settimana ossia ci danno non solo 0, qualcosa di possibilità di vincere il torneo in effetti è difficile immaginarci i vincenti del torneo però fattori chiave allora fattori chiave io nominati gli ho dato tre nomi uno facciamo crescere la pianta ci arriviamo due ritroviamo l'equilibrio tre impariamo a vincere avete visto che ho messo tutto alla prima persona plurale perché voglio essere parte di questo progetto voglio essere parte integrante spingere gli azzurri ovviamente restando nel giudizio sereno però insomma è un gruppo che ci sta veramente esaltando emozionando e che vogliamo spingere sempre di più partiamo dal primo facciamo crescere la pianta il progetto Italia è un progetto giovane anche se vediamo anche altre squadre rinnovare ma noi con gli stessi cap e le stesse età o meno abbiamo giocatori che hanno già un bel bagaglio sulle spalle Fischetti Lucchesi Lamaro Zuliani Paolo Garbisi Menoncello Capuozzo tutti giocatori giovanissimi under 25 con già tante tante esperienze sulle spalle attenzione sia in nazionale che in club e sia in club in Italia che all'estero alcune anche molto vincenti per esempio tra questi che ho nominato Capuozzo l'anno scorso ha vinto il titolo di Francia ho detto facciamo crescere la pianta perché Franco Smith ha preparato in qualche maniera il terreno gli hanno dato l'arduo compito di di zappettare l'orto di preparare le zolle poi è arrivato Crowley Crowley che cosa ha fatto Crowley ha messo i semi ha messo i semi lavorando molto sulle skill skill molto funzionali a quella scommessa di gioco che aveva fatto e in qualche maniera ha fatto nascere un sogno ha dato credibilità e rispetto ma più dall'interno che verso l'esterno cioè si è parlato molto della credibilità e rispetto che avremmo dovuto acquisire verso l'esterno ossia che ci avrebbero dovuto tributare ma secondo me quello che è riuscito a fare Crowley è l'avere fatto nascere una auto credibilità e un auto rispetto in tanti giocatori e iniziare a farli sognare pensare in grande adesso arriva che sana quindi dopo aver preparato il terreno dopo aver piantato i semi che cosa bisogna fare innaffiare innaffiare e allora vai con la pompa e e e manca 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 perché innaffiare poi piano piano cresce manca tanta strada no per fare per fare un albero no ma come diceva la canzone cosa era Branduardi che diceva per fare l'albero ci vuole se ok ok sono stonato comunque innaffiamo e troviamo l'equilibrio secondo punto troviamo l'equilibrio la scommessa Crowley lo abbiamo detto era abbastanza estrema era un all-in clamoroso abbiamo imparato delle cose però abbiamo imparato ad andare veloci ad andare a mille all'ora abbiamo imparato a fare il famolo strano no avere a essere anche imprevedibili in qualche maniera bene che sada dovrà fare il passo successivo che sada vuole riportare il gioco al piede nel game plan dell'Italia lavorare bene sui sostegni e sul breakdown dove è stato assunto German Fernandez se non perdiamo difese set-piece fatti bene soprattutto in franchigia a Treviso soprattutto ma adesso stanno iniziando anche le zebra a fare alcune cose difensive molto pregevoli pregevoli occhio che ci possiamo divertire occhio che ci possiamo divertire e poi il terzo detto impariamo a vincere Lamarro parlava di come spesso l'obiettivo era stare in partita per poi giocarci quegli ultimi minuti come se quegli ultimi minuti fossero un coin flip un testa o croce un biglietto della lotteria e se invece imparassimo a fare la partita se imparassimo a vincere alle nostre condizioni gestendo noi i tempi a volte perché no anche dominando alcune partite capendo noi quando accelerare e quando rallentare imponendo noi i momenti della partita invece che andare di rincorsa un po' come fatta Reviso a volte un po' come fa il Benetton a volte vediamo vediamo tutte domande aperte il percorso questo lo sappiamo a memoria un po' come l'Ave Maria l'Inghilterra a Roma l'Irlanda lì poi si va in Francia a Lille Scozia in casa e poi si torna sul luogo del delitto millennium questo è uno di quei sei nazioni dove se ne giocano tre fuori due in casa quindi più difficile osservati speciali chi sono i giocatori che guarderemo con tanta attenzione allora nelle altre ne ho messi tre qui mi sono preso il lusso di mettere quattro voci e sei giocatori allora il primo Tommy Menoncello ci è mancato ci è mancato tanto al mondiale però è tornato e in quattro partite a Treviso si è fatto vedere insomma si è preso due men of the match ha segnato tre meta giusto così bentornato Tom nella nostra ultima live Cavinato ha detto che segnerà il rugby italiano per anni o qualcosa del genere io gli ho detto ammazza che investitura ok non gli mettiamo troppa pressione però che sto ragazzo abbia qualcosa di diverso sembra evidente no Igarbisi Igarbisi allora prima di fare il video sì che ho letto la formazione dell'Italia ed è interessantissima la scelta di Chessada per la prima Igarbisi's brother partono assieme Alessandro dalla sua ha il fatto che tutti i nostri mediani tra tutti i nostri mediani è probabilmente quello che difende meglio poi Chessada ha dato anche altre motivazioni che spiegherò in un altro video Paolo si deve un po' ritrovare e però se si ritrovasse abbiamo un top player no? abbiamo colui che ha vinto il top 14 abbiamo colui che ha aiutato Treviso a vincere la Rainbow Cup non lo scopriamo oggi e magari perché no proprio quella sinergia tra fratelli potrebbe esaltarne le qualità sicuramente è una scelta estremamente affascinante l'altro giocatore da tenere sott'occhio per me è Simone Gesi ok non ci sarà la prima ma io credo che lo vedremo è un talento pazzesco e tra l'altro oltre a quel fiuto della meta che ormai tutti gli riconosciamo occhio che è bravo in tante altre cose è bravo sulle palle alte avanza sempre al contatto non so come faccia in maniera strana si gira si rigira si divincola ma riesce ad avanzare sempre al contatto importantissimo mantiene la calma trova delle soluzioni sterene anche in situazioni delicate e sì è vero gli mancherà un po' di tecnica al placaggio ogni tanto ma non ha paura non ha paura vedi i vari grillo talpa e fetching che va a fare Simone Gesi e poi ho voluto mettere una voce in più perché non potevo non metterli i due esordenti Ross Vincent e Zaza Isekor due giocatori che bussano alle porte del Little Rugby con insistenza e potrebbero esordire diversi Vincent forse è più completo Vincent può coprire tutte le tre posizioni della terza Isekor è forse ancora più esplosivo di Ross Vincent che comunque è bello esplosivo ed è un po' meno completo sono convinto che avranno la loro chance e più di qualcuno in Europa quando li vedrà questi due ragazzi farà wow wow pronostico eh beh ormai se avete fatto i conti insomma io dico che quest'anno arriviamo quarti esagero esagero vabbè è un gioco è un gioco è un gioco l'importante sarà vedere le prestazioni ovviamente però anche vince qualche partita schifo non farebbe no? allora vi avevo detto che a fine video avrei fatto le sei sparate del sei nazioni che voglia che voglia di vedere questo torneo e allora spariamo spariamo buttiamoci ovviamente sono delle buttade sono delle cose molto difficili che si realizzano però ne ho pensata una per squadra è un gioco vediamo se almeno una di queste si realizza dai allora la Scozia la Scozia vince il torneo e questo lo avevamo già detto Simone Gesi segna almeno due mete qui qualcuno dirà ma intanto vediamo se è gioco Simone Gesi segna almeno due mete nel torneo la terza è la più improbabile però alla fine del torneo Gatland si rompe le valle e dà le dimissioni quattro la Francia non riuscendo a sostituire per bene Dupont prima della fine convoca Baptiste il ragazzino e la stessa cosa dico per l'Irlanda in un'altra posizione l'Irlanda disperata da non riuscire a sostituire Sexton prima della fine quantomeno in gruppo chiama Sam Prendergast ah manca l'Inghilterra George Ford mette tre drop almeno tre almeno tre almeno tre drop nel torneo li deve mettere e le vostre ragazzi dai scrivetelo scrivetelo nei commenti raga ci vediamo i prossimi giorni con altre preview e poi tutte le live delle partite di tutte le partite delle 6 nazioni l'Under 20 purtroppo questa settimana gioca in semi contemporanea quindi inizieremo con l'Under 20 poi passeremo a Irlanda a Irlanda Francia con un occhio comunque a Monigo e per il resto sta per iniziare la festa sta per iniziare la festa eravamo tristi che finito il mondiale inizia i 6 nazioni viva il rugby ciao ciao